Google Drive è lo spazio di memoria online messo a disposizione gratuitamente da Google per tutti i suoi utenti, per cui chiunque disponga di un account Gmail o Google può utilizzare gratuitamente questo spazio di memoria che in effetti è proprio come se fosse un hard disk oppure una penna USB. Quindi accessibile però utilizzando semplicemente un browser ed una connessione ad internet. Quindi accedo a Google Drive aprendo il mio browser che in questo caso è Chrome e introducendo nella barra di indirizzi l'indirizzo drive.google.com. Vengo quindi rimandato alla pagina iniziale di Drive e nella sezione personale clicco su buy su Drive, su Google Drive. Lo spazio di archiviazione a disposizione messo da Google è di 15 GB. Vengo a questo punto rimandato nella parte, nella sezione dove devo introdurre le mie credenziali di accesso, quindi le username e password del mio account, le introduco. A questo punto accederò al mio spazio G-Drive. L'interfaccia consta principalmente di tre sezioni. Una sezione centrale dove vediamo tutte le risorse in termini di cartelle e file che sono state caricate nel mio Drive. In particolare qui vedrò le risorse contestualizzate in funzione della specifica cartella nella quale mi trovo. Poi abbiamo una barra di testo su una textbox superiore dove posso introdurre un testo che consente a Google di effettuare una ricerca veloce per testuale veloce e intercettare velocemente le risorse che rispondono a questo testo, quindi questo è per l'accesso diretto ai file o alle cartelle. Poi abbiamo una scheda diciamo laterale in cui abbiamo il pulsante nuovo che vedremo dopo e che ci consente di creare o aggiungere nuove risorse al nostro spazio G-Drive. Poi abbiamo un insieme di sezioni, di schede. La scheda il mio Drive ci permette di visualizzare nella parte centrale tutte le cartelle e i file che io ho creato nel mio spazio G-Drive e quindi delle quali io sono il proprietario. Nella scheda condivise con me noi vediamo invece tutte le cartelle e tutti i file che qualcun altro, quindi un altro utente, ha condiviso con noi mediante Google Drive. Quindi sono risorse alle quali noi non siamo proprietari ma alle quali accediamo grazie alla condivisione di qualcun altro. Poi abbiamo il cestino dove vanno a finire tutte le risorse che vengono cancellate dal nostro spazio e poi abbiamo la scheda recenti dove visualizziamo tutti i documenti acceduti recentemente, gli ultimi documenti acceduti nel nostro spazio G-Drive. E poi abbiamo speciali che è una scheda particolare in cui noi possiamo, andiamo, sono presenti praticamente quelle risorse che noi contrassegniamo come speciali. Allora vediamo come creare una nuova risorsa nel nostro spazio G-Drive. Vado nella cartella il mio Drive e clicco su nuovo. Come vedete posso creare una cartella, un file e in diverse modalità. Creo in questo caso una cartella, quindi nuovo, crea cartella, esempio G-Drive, cartella di esempio, esempio G-Drive. Clicco su crea, a questo punto viene creata la mia cartella e subito la vedo disponibile nella scheda il mio Drive. Selezionando una risorsa o una cartella e cliccandovi su due volte, accedo alla cartella. Vedete qui il percorso, se avessi fatto accesso, se ci fosse un'altra sottocartella qui, se avessi fatto accesso ad un'altra sottocartella, qui vedrei anche, virgoletta, nome della sottocartella. Quindi proprio come se lavorasse sul vostro hard disk, sul vostro computer. Allora provo ora a creare un file, vedete che io posso o creare un documento Google, per esempio clicco su documenti Google, quello che succede è che viene creato un nuovo file di tipo documenti Google. Ricordo che Google Docs è l'editor di testo messo a disposizione per ciascun utente gratuitamente da Google e quindi è l'equivalente di Microsoft Word. Quindi documento, esempio, vedete che quando ho cliccato su crea documento mi si è aperta una scheda, nella nuova scheda del documento, per la compilazione. Bene, se torno nel mio spazio G-Drive vedrò a questo punto il documento appena creato. Posso inoltre caricare un file dal mio hard disk, quindi se vado su nuovo caricamento file, mi si apre una finestra che mi chiede di appunto selezionare un file da introdurre, diciamo, nel mio spazio G-Drive. Come se stessi facendo a tutti gli effetti l'upload di una risorsa. Quindi seleziono ad esempio un file, sono nella mia cartella download e faccio apri, il file viene in qualche secondo caricato nella mia cartella. Altra modalità di caricamento file è quella del trascinamento, quindi posso aprire una cartella nel mio hard disk, prendo un'immagine, in questo caso un'immagine qualsiasi, la trascino, la selezione, la trascino nel mio spazio G-Drive e come vedete ce l'avrò a disposizione. Bene, su un file o una cartella noi possiamo fare, applicare l'operazione di condivisione, quindi se seleziono un file o una cartella e clicco col tasto destro, in generale ho l'accesso a tutte le funzioni contestuali. Quindi in particolare possiamo condividere ad esempio questo file, che significa condividere? Condividere significa fornire l'accesso di un file che è disponibile sul nostro spazio G-Drive ad altri utenti. Come facciamo? Condividi e qui introduciamo l'indirizzo email, per esempio iplas.gmail.com. Possiamo introdurre più indirizzi email? Possiamo introdurre quanti indirizzi email vogliamo per condividere il file o la risorsa con più utenti. La modalità di condivisione può essere in modifica, cioè l'utente che riceve la richiesta che accederà in condivisione al file potrà visualizzare il file e modificarlo. In visualizzazione, ossia l'utente che accede al file potrà visualizzarlo ma non potrà modificarlo, oppure in commento, in quanto l'utente che accede al file potrà visualizzarlo. Introdurre dei commenti sul file in modalità revisione ma non potrà modificarlo. Possiamo introdurre una nota A questo punto clicchiamo su invia. Quando si clicca su invia viene inviata un email alle persone che sono invitate ad accedere in condivisione al file. Quindi nell'email ci sarà un link che le persone potranno cliccare per accedere direttamente alla risorsa condivisa. Queste persone inoltre potranno accedere al file anche andando nel loro spazio G-Drive nella cartella condivisi con me e quindi qui visualizzano, visualizzeranno insomma tutte le risorse con loro condivise. Altre operazioni che possiamo fare sui file e sulle cartelle, vedete, seleziono sempre un file o una cartella e attenzione e posso spostarla, quindi spostare una risorsa da una cartella ad un'altra nel contesto del mio spazio G-Drive, rinominarla, copiarla oppure scaricarla. Scaricarla perché? Perché le risorse che sono caricate sullo spazio G-Drive sono in remoto, sono in internet, sono sulle macchine di Google, non sono sulla nostra macchina locale. Per cui io con scarica non faccio altro che far partire il download per ottenere una copia locale della risorsa, sia essa sempre un file o una cartella. Se io faccio scarica, vedete, parte il download e a questo punto mostra tutti. Nella cartella download del mio computer vedrò il file che potrò utilizzare, accedere, modificare e eventualmente anche inviare tramite email. Infine posso rimuovere il file, quando rimuovo un file, come detto, esso andrà salvato nella cartella cestino, come avviene praticamente per Windows. Allora, queste sono chiaramente le funzionalità principali, ci sono tante altre funzionalità che però non sono lo scopo di questo video. Una cosa che è importante far notare è che Drive è integrato con Classroom, ossia quando si crea un corso Classroom, questo corso su Classroom è associato ad uno spazio Drive. Quindi Drive fa da memoria per conservare tutte le informazioni che noi condividiamo con gli studenti nel corso Classroom. Quindi, ad esempio, ho creato il corso Classroom Informatica Prima A, in automatico mi è stato creato nel mio spazio G Drive una cartella Informatica Prima A, che se vado ad aprire, conterrà tutto, tutto quello che condivido con gli studenti su Classroom, in termini di file e di risorse, di compiti e così via. Quindi, in pratica, Drive è lo spazio di memoria su cui Classroom si poggia e Classroom altro non è che un'interfaccia che permette di interagire in modo intelligente con Classroom per conservare e organizzare tutte le informazioni di un corso.